Uno stato d'animo cupo. Ho iniziato a pensare che fosse perché nessuno mi ama, ma poi perché dovrei essere amato. Infatti non c'è motivo. Dovrei solo amare io e lasciare che gli altri facciano come vogliono. E in realtà mi amano molto di più di quanto io meriti. Poi di notte ho pensato molto a me stesso. Sono una persona estremamente cattiva e viziosa. In me ci sono tutti vizi al massimo grado. Invidia, avarizia, taccagneria, lossuria, vanità, ambizione, orgoglio, malizia. No, non c'è malizia, ma c'è rancore, menzogna, ipocrisia. Tutto, cioè, è in molto maggiore misura rispetto al maggior, sì, alla maggior parte delle persone. La mia unica salvezza è che, lo so, è lotto, lotto per tutta la vita, per cercare ragione di come sono, per quale motivo, che cosa mi ha ridotto così, perché cerco questo. è per questo che mi chiamano il rabdomante, il clamorosissimo, il pastore. e invece mi sento niente, nessuno.